Ciao amici e bentornati in questo nuovo video Oggi vi faccio vedere Questa qui è la cartella di Youtube Sì, ho una cartella di Youtube Dove ci sono tutte le app che io uso Questa qui è Due Record Che la uso per Registrare anche qui sullo schermo E vi faccio un po' vedere le mie app Due Record, come lo sto dicendo Serve per registrare sullo schermo Poi c'è Pixel Pixel Non so, tipo Vediamo Che vi posso dire Prendiamo qualche Facciamo una foto Qua Bianca Ok Vedete con questa foto Un attimo la pubblicità Non mi serve questa Oh, direi pubblicità Con questa foto io posso andare a mettere Le varie stickers Tipo Vediamo Emotion Posso metterle Emotion Tipo, vedete Ok Oppure posso mettere Gli stickers Che sono qui Bellissimo arcobaleno Oppure posso anche scrivere con la text Scegliendo Sto facendo un web Adesso scrivo checca Vedete Io metto qua E ho la mia cosa Poi Andiamo avanti Questo è il videomate Che serve per scaricare le musiche Che è Poi Abbiamo Keymaster Che Io uso Per fare Alcuni video Per mandare i video E pixelab Che è la stessa cosa Di pixel Quindi Oggi Volevo far vedere Un po' Le mie cose Ciao Ciao